L'America Latina e Venezuela sono un obiettivo in questo momento di disinformazione come lo è l'Ucraina come ci sono altri punti di attacco. Qual è la caratteristica attuale dell'attacco mediatico? La caratteristica più drammatica, anzi sconvolgente, è il fatto che se noi avessimo un'informazione onesta, corretta, indipendente, dei giornalisti coraggiosi, in grado e volentorosi di indagare, investigare oltre le apparenze e oltre la propaganda, probabilmente tante tragedie di questo momento nel mondo, non ci sarebbero. Io ne avevo visti di tutti i colori nel giro, partecipando a varie guerre come inviato, ma quello che mi è capitato di vedere in Venezuela al tempo del famoso golpe del paro del 2002 contro Chavez è stato veramente stupefacente. La totale, il rivolgimento, lo sconvolgimento totale della verità, andando lì si vedeva che la verità era tutta un'altra, che quella che si stava attivando sul piano della violenza e del colpo di Stato e poi del sabotaggio dell'economia, era una ristrettissima classe di abbienti, di signori ricchi, di terra di niente, che si opponevano alle riforme. Ormai sul mainstream non c'è più una sola cosa che non appaia come una specie di mostricciattolo a uso e consumo dei coglioni, scusa, perdon, scusate, dei cretini che lo guardano. Io sto diventando sempre più insofferente perché, come sai benissimo, c'è una guerra in questo momento al centro dell'Europa di cui ci stanno raccontando delle cose, non saprei neanche come definirle. In realtà, in realtà, la cosa più importante è che non ci stanno raccontando niente, hanno tirato giù una tenda e coprono tutto. Il Venezuela è lontano dall'altra parte del mondo, che ne sappiamo? La costruzione del dominio monopolista dei media può avere una risposta nella rete, nella comunicazione orizzontale? No, no, non credo proprio. La rete ha offerto delle occasioni, delle occasioni molto importanti, ma purtroppo la rete è già fortemente inquinata, fortemente inquinata. Ogni giorno, in ogni momento. E quindi è difficile per una persona normale orientarsi nel gran mare di menzogne, di deformazioni e anche di ingenuità. Per cui, se non stai attento tu stesso, voglio dire, parlo tra giornalisti, se non stai attento a difenderti dalle deformazioni, puoi facilissimamente cadere in trappole che sono state organizzate, che sono organizzate molto bene, con grande professionalità. Rimane questo dominio assoluto che non viene messo in discussione. Negli stessi paesi che hanno fatto dei grandi passi avanti e in avanti nell'emancipazione, nella promozione delle condizioni delle proprie masse, quindi della giustizia, ancora questo dominio, questa egemonia dei grandi trust dell'informazione persiste, non viene intaccato. Per quanto ci siano adesso anche in Venezuela stessa, con Telesur, dei tentativi di opporsi e di produrre delle voci diverse, che sono molto valide, ma assolutamente ancora insufficienti rispetto alla cappa di piombo che è costituita dal complesso editoriale internazionale, intimamente legato, se non intrecciato, ai poteri economici, politici e militari esistenti. Lo strumento comunicativo, lo strumento di informazione è sempre stato luogo di battaglia. Il potere è la comunicazione, lo è sempre stato in tutte le società, lo è anche in questa. Quindi se c'è gente che combatte per avere una buona comunicazione, puoi ottenere dei risultati. Il problema è che noi in Europa non abbiamo mai combattuto su questo. Siamo stati travolti, siamo stati superati, siamo stati annichiliti dal potere del nemico e non abbiamo avuto mai nessuno, neanche una forza politica di opposizione capace di bastire una risposta di opposizione. Se pensiamo come si è riusciti a bloccare la guerra al Vietnam attraverso una che ancora allora era un'informazione abbastanza pluralistica, variegata e con grandi componenti indipendenti e che questo comportò una presa di coscienza da parte di milioni e milioni di persone. Ci rendiamo conto di come siamo andati perdendo questa qualità fondamentale dell'informazione che non è più informazione ma è da tutti i punti di vista una propaganda. Una propaganda che tragicamente si tira dietro ai grandi esempi, ai grandi maestri dei grandi giornali, delle grandi reti televisive eccetera, anche quelli che dovrebbero avere una percezione maggiore della realtà, della verità, parlo di una certa stampa cosiddetta liberal o di sinistra.